... Sarà un nuovo scontro con la Commissione europea in quel momento? No, perché c'è questo nuovo sconto? La legge di bilancio va sempre al controllo della... ...che sono riforme strutturali? Ma chi lo dice? Abbiamo facendo un piano di azione di riforma approvato insieme al documento economico e finanze. Chi lo dice? Lei dice, dice. Chi? Fitch, ieri sera nel suo report prima dell'aggiornamento sul rating del prossimo 9 di agosto. Le regole vuole. Le informe strutturali ci sono. Ministro Massu, all'Italia si chiude il 15 secondo lei? Attenzione. Grazie. Grazie.